Sarà siglato venerdì prossimo l'accordo tra Regione Siciliana, Dipartimento delle Acque ed Enel, che impegna Enel a sospendere fino a tutta la durata dell'emergenza, e cioè almeno fino a maggio-giugno 2025, la produzione di energia idroelettrica dalle tre centrali presenti sul territorio e a trasferire tutto il quantitativo d'acqua alla diga Castello attraverso la bretella di collegamento. E' questo l'impegno incassato oggi dai sindaci del comprensorio di Ribera durante l'incontro avuto a Palermo con l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro e dedicato ancora una volta all'emergenza siccità che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura di un vasto comprensorio. E' ciò che chiediamo dallo scorso febbraio, in occasione del primo incontro che abbiamo avuto in assessorato, riferisce al nostro telegiornale il sindaco di Ribera Matteo Rubolo, una richiesta che abbiamo poi più volte reiterato ai varienti preposti anche attraverso il prefetto di Agrigento. Un risultato importante, commenta Matteo Rubolo, che però da solo non basta assolutamente per affrontare l'emergenza nell'immediato. E infatti a gran voce i sindaci durante il vertice di oggi a Palermo sono tornati a chiedere con forza che vengano immediatamente assegnati i quantitativi d'acqua della riga Castello da destinare ad usi irrigui. E' necessario cioè che venga autorizzato il prelievo di 2 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua da destinare all'agricoltura del territorio di Ribera. Senza questo fondamentale passaggio, ha aggiunto il sindaco Rubolo, non ci sarà più alcuna speranza per l'agricoltura riberese. Nell'immediatezza occorre dunque che vengano assegnati i quantitativi d'acqua da destinare ad usi irrigui per consentire così al consorzio di bonifica di programmare le irrigazioni di soccorso. Tutto ciò ha concluso il sindaco di Ribera per salvare almeno gli impianti perché il prodotto è già compromesso. Sindaci del comprensorio che hanno infine chiesto che vengano garantiti i rilanci d'acqua in alveo per la parte alta del territorio, ossia le aree dei comuni di Caltabellotta, Burgio e Villafranca Sicula senza alcun onere a carico degli agricoltori vista la situazione di emergenza.